I disagi del maltempo ad Adrano sono stati causati soprattutto dal blackout di ieri sera. Intorno alle 19 la città è piombata nel buio assoluto. Il servizio di energia elettrica è stato interrotto in quasi tutto il territorio ad Anita e nei comuni limiti o fisino a tardasera. Tuone e fulmini hanno caratterizzato il temporale che si è abbattuto in serata in tilt la linea elettrica con episodi che hanno anche creato un certo allarme fra gli abitanti, come nel caso di Via Carso, nella zona Cappuccini, dove da un capo dell'Enel per diverse ore si sono registrate scintille, scariche che hanno anerito anche parte del muro della via in questione. Ma l'interruzione della corrente elettrica ha comportato anche l'intasamento e il blocco delle linee telefoniche e si è temuto il peggio per un bambino. A tale riguardo c'è da segnalare un provvidenziale intervento dei volontari della protezione civile di Adrano. Intanto anche oggi le scuole di ogni ordine e grado di Adrano sono rimaste chiuse a scopo precauzionale dopo la riconferma dell'allerta meteo diffusa dalla protezione civile. Lo ha stabilito ieri il sindaco di Adrano, Pippo Ferrante, con una nuova ordinanza nella quale è stata disposta anche la chiusura di tutte le strutture sportive comunali e la sospensione delle attività del mercato bisettimanale di Via Salleo nella tradizionale giornata del venerdì, chiusa anche la villa comunale. Per quanto riguarda la viabilità, ha lagato anche questa volta il tratto della 284 in contraria della Viccia con notevoli disagi per gli automobilisti. In tanti hanno scelto percorsi alternativi, ma in tanti si sono anche avventurati per attraversare con le auto il tratto allagato.